Benvenuti nel nostro canale, importante per noi avere il tuo supporto, prima di iniziare il video premi il pulsante iscriviti, lasciami un mi piace, e attiva la campanella per non perderti le prossime novità. Spiaggia di Grottecelle, incantevole angolo della Calabria. Incastonata nell'incantevole cornice di Capo Vaticano, lungo la costa degli dei, la baia di Grottecelle racchiude tre calette perfette per chi ama lo snorkeling e la natura. Uno scrigno naturale che racchiude tre spiagge che sfumano l'una nell'altra, regalando ai vacanzieri un caratteristico angolo di paradiso. La splendida baia di Grottecelle è incastonata nell'incantevole cornice di Capo Vaticano, lungo la costa degli dei. Il luogo perfetto per nuotate e fare immersioni in acque cristalline ricche di meraviglie sommerse da ammirare con maschera e boccaglio, ma anche per gli amanti della natura, grazie alla rigogliosa vegetazione mediterranea che si attraversa per raggiungere le spettacolari calette. Una tappa imperdibile nel vostro viaggio in Calabria. Una baia, tre spiagge e infinite emozioni. Siamo nel borgo di Ricadi, in provincia di Vibo Valencia, che vanta una delle coste più belle d'Italia, con 12 chilometri di spiagge, baie e calette, plasmate dai venti e dal mare. Tra queste, spicca Grottecelle, che prende il nome da una grotta naturale situata proprio sotto Capo Vaticano, costituita da tre piccole cale in prevalenza sabbiose con scogli che affiorano maestosi dall'acqua. Questa suggestiva opera di madre natura si estende per un chilometro, e si colloca all'interno di una conca protetta, a nord dal promontorio di Capo Vaticano e a sud dalla spiaggia di Santa Maria. Di fronte si palesa allo sguardo già saturo di bellezza lo spettacolare panorama delle isole eolie. La sabbia è chiara e sottile, il mare azzurro e trasparente con un fondale sabbioso davanti alla spiaggia che diventa roccioso intorno agli scogli, in cui prende vita una ricca e variegata flora e fauna subacquea, per la gioia degli amanti dello snorkeling e delle immersioni. Sulle splendide spiagge di Grottecelle, universalmente classificate tra le più belle del mondo, si possono inoltre affittare ombrelloni e sdraio, e non mancano servizi per i bagnanti. La selvaggia e affascinante baia, ampia e frastagliata, culmina con lo scoglio del palombaro, la punta estrema di Capo Vaticano, con un faro che da sempre indica la via sicura ai naviganti. Insenature e piccole spiagge racchiuse in questa costa sono raggiungibili attraverso sentieri che si arrampicano fra le rocce di granito e la macchia mediterranea, offrendo un favoloso gioco cromatico creato dall'incontro del verde della vegetazione con il bianco della sabbia e il turchese delle acque, mentre l'aria si inebria con i profumi speziati del rosmarino, del mirto e del timo. Nel punto in alto è stato realizzato un bel vedere da dove si ammira un panorama che vi sarà impossibile dimenticare. Le altre spiagge di Capo Vaticano da non perdere A dare fama al promontorio di Capo Vaticano sono soprattutto gli arenili e le splendide insenature sulle ultime propaggini del Monte Poro, uno dei più suggestivi tratti della costa tirrenica. Oltre alla spiaggia di Grotticelle, ce ne sono altre che sono assolutamente degne di sosta. Ad esempio l'incantevole baia di Riacci con i suoi fondali azzurri e le acque trasparenti, il paesaggio dominato da alte pareti di roccia calcarea e una lunga spiaggia di sabbia bianca, divisa da un piccolo promontorio che si addentra nel mare, lo scoglio grande, con grotte e insenature da esplorare a nuoto. Un gioiello nascosto di Capo Vaticano è Praia Ifoku, una deliziosa caletta situata tra alte scogliere rocciose, raggiungibile solo dal mare, caratterizzata da sabbia fine e bianca e un mare dai colori tropicali. Punto di forza di questo tratto costiero è l'essere cinto da alte scogliere che mantengono il clima mite e il mare al riparo da correnti fredde tutto l'anno, da qui il nome di Praia di Fuoco. Tra le spiagge più conosciute e apprezzate di Capo Vaticano ci sono poi quella di Formicoli, che sorprende per la natura selvaggia, le spiagge di Petraia e Salamite, Santa Maria, subito oltre la Baia di Grotticelle, la spiaggia afficara, costituita da tratti di sabbia fine alternati a tratti di scogliera, che essendo di difficile accesso non è stata contaminata dal turismo di massa. Non perdetevi infine una escursione a Capo Vaticano al tramonto, navigando lentamente per osservare la luce del sole calare sulle falesie della costa degli dei. Un'esperienza incredibilmente romantica e suggestiva.